Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un altro video che riguarda tattiche e istruzioni, in particolare relative a un modulo che io trovo molto molto funzionale per recuperare partite anche in situazioni disperate. Ve lo porto qui sul tubo perché durante una live mi avete visto recuperare una partita da 3 a 0 a 3 a 3 praticamente in 12 minuti di gioco, un'altra partita da 4 a 0 a 4 a 4 in 25, insomma avete visto che questo modulo è devastante. Soprattutto ovviamente contro avversari che però in Weekend League insomma vi permettono di poter recuperare partite di questo tipo perché insomma se beccate quello bravo, anzi magari ve ne fa il doppio, però è un modulo che buorca soprattutto se masterato per bene e volevo approfittare per farvelo vedere in maniera tale che ogni volta che mi chiedete come funziona trovate questo video che vi spiega il tutto nel minimo dettaglio. Quindi vanno dalle ciance, passiamo sulla solita schermata in game, cambio di scena e andiamo a scoprire di che modulo si tratta. Si tratta di fatti del 3-1-4-2. 3-1-4-2 è un modulo ambiguo che in game praticamente appare così e che io vado a giocarmi con le seguenti tattiche. Utilizzo pressing una volta persa palla. Mi chiederete perché magari non pressing costante? Semplice perché pressing costante ragazzi è semplicemente l'equivalente del pressing che andate ad applicare con il tastierino. Quindi quante volte ho visto ad esempio ad alcuni player mettere sia pressing costante che quello del tastierino non serve assolutamente a niente. È come se si annullassero un altro po' a vicenda. Anzi i giocatori si stancano praticamente il doppio quindi a maggior ragione. Pressing una volta persa palla che attiva una sorta di pressing costante ma per 7 secondi e poi se volete attivare il pressing costante cioè avete il tastierino per altri 20. Ampiezza 5 insomma standard perché non è che i giocatori li voglio fuori dal campo è un'ampiezza troppo appunto grande. Vi create buchi centrali e sto modulo vi assicuro che in tema di buchi ne sa. Stavo per fare una battuta ma io ne ho. Bene profondità invece 10 perché voglio praticamente la difesa il più alta possibile per cercare di recuperare palla alta e mettere in difficoltà il mio avversario soprattutto quando perde palla nella sua metà campo con pressing una volta persa palla. Per quanto riguarda lo stile d'attacco utilizzo possesso palla e mi potrete chiedere perché utilizzi possesso palla e non manovra veloce. Utilizzo possesso palla perché una volta recuperata io la voglio andare a gestire non voglio fare delle azioni troppo rapide che magari mi fanno perdere il pallone. E soprattutto con un modulo del genere con manovra veloce i giocatori vi scappano via e non li riprendete più praticamente quindi utilizzo possesso palla per questo motivo e vi assicuro che secondo me è la tattica migliore. Per quanto riguarda invece l'ampiezza utilizzo in questo caso 7 perché più sono giocatori di attacco più ovviamente la squadra è larga maggiori sono gli spazi che si creano al centro di conseguenza. Giocatori in area stavolta 8 perché mentre io faccio il mio possesso palla al di fuori dell'area voglio che dentro l'area si crea una densità tale da mettere in difficoltà il mio avversario che non sa più dove deve andarmi a marcare. Per questa volta utilizzo angoli 4 perché magari un angolo me lo voglio battere con la palla in mezzo oppure anche fuori ma appunto creare sempre densità in area in maniera tale che i suoi difensori non bastano per i miei attaccanti e punizioni 1 perché tanto solitamente le punizioni o le batto vicino o se la situazione è proficua li vado a tirare. Per quanto riguarda invece le istruzioni che vado a utilizzare abbiamo interventi sui cross qui non so perché ho equilibrata ma ho uscite sui cross in maniera tale che il portiere mi gioca praticamente come se fosse un libero o un difensore aggiunto. Abbiamo poi per quanto riguarda i difensori resta dietro in attacco chiaramente perché almeno miseria qualcuno a difendere ci vuole. Per quanto riguarda Mendy abbiamo resta dietro in attacco giusto per fare un po' da baluardo ma all'occorrenza con un passaggio con l1 lo sapete bene che potete tirare avanti anche lui. Poi per quanto riguarda invece quel reparto avanzato di frecce a sinistra e a destra abbiamo Gullit chiaramente con rimani avanti, Renato Sanchez chiaramente con rimani avanti, poi abbiamo il buon Neymar lasciato su standard, il buon Cristiano Ronaldo su rimani centrale inserisciti alle spalle e il buon Bappé su rimani centrale inserisciti alle spalle, anche Rashford invece su base. Vi spiego il perché del rimani centrale inserisciti alle spalle perché la logica è porto palla magari con i due centrocampisti, questi due mi tagliano dentro portandomi via l'uomo e arrivano gli inserimenti di questi due che giocano un po' più largo e vi assicuro che infatti quando metto questo modulo per recuperare i gol fatti da Neymar e Rashford sono veramente tanti così come sono tanti gli assist perché se mi entra Neymar dall'altro lato visto il numero di giocatori in aria mi entra anche Rashford e dentro si crea la superiorità e magari la palla da in mezzo diventa facile per i due attaccanti che finalizzano quindi queste sono le istruzioni. Chiaramente ragazzi è un modulo che va utilizzato in situazioni disperate, non bisogna di recuperare partite che state perdendo una o anche due a zero e c'è tutto il tempo di recuperare con il vostro modulo semplicemente col vostro stile di gioco ma magari se vi mancano quei 10, 15, 20 minuti in game e siete sotto di 2-3 gol potete tranquillamente metterlo e vi assicuro che se masterato e giocato con le giuste idee in testa vi permette di fare delle rimonte veramente epiche quindi nulla raga per quanto riguarda questo video è tutto fatemi sapere che ne pensate, lasciate un like, commentate tutte cose da youtuber epico che servono mi raccomando iscrivetevi al canale perché stiamo crescendo e mi fa strapiacere e nulla ragazzi io vi saluto, vi do appuntamento ogni giorno in live sulla piattaforma viola tutte le info in descrizioni e nulla, fate bravi, ciao ciao